L'importanza del marketing nella vendita della tua casa. Ora, marketing è una parola che ormai significa tanto e niente. La domanda che dovresti fare al tuo professionista immobiliare è che tipo di marketing, che tipo di pubblicità andrà a fare per la tua casa. Cioè, ovvero, tradotto in parole quotidiane è cosa farai per dare visibilità al mio immobile? Perché possa essere visto da una platea più ampia possibile di eventuali acquirenti e quindi garantirmi un risultato più vantaggioso e migliore al mettermela in vendita da solo. Quindi il marketing in questo momento è importante perché l'agente immobiliare mai nella storia come oggi è diventato un esperto di social, media e pubblicità specializzato nel mercato immobiliare. Ricordiamo che la figura dell'agente immobiliare è una figura commerciale che ovviamente gestendo il patrimonio più importante, molto spesso, anzi più delle volte di una famiglia, deve avere anche delle altre cognizioni tecnico-professionali ma principalmente un commerciale. Nella scelta dell'agente immobiliare avere un menu di servizi, un piano di azione di quello che verrà fatto per la messa in vendita e per darti il supporto necessario è importantissimo. Questo perché un tempo, ci ricordiamo, dieci anni fa, magari quando hai comprato la tua casa eri andato a vedere su un giornaletto che c'era all'epoca un trafiletto e poi eri andato a vedere l'immobile. Oggi il mondo è completamente cambiato, la tecnologia ha cambiato il mondo e soprattutto, non so se avete notato, ma negli ultimi dieci, quindici anni abbiamo molto molto meno tempo da investire nell'andare a vedere gli immobili come aprirli come l'uovo di Pasqua, è la sorpresa. È importantissimo quindi avere tutte le informazioni per il consumatore digitali che possa quasi aver visto la casa già digitalmente. Se provi ad andare a vedere nei nostri piani pubblicitari il lavoro che stiamo facendo per poter dare ai nostri clienti, proprietari questo tipo di possibilità, vedrai che in realtà il cliente acquirente si è già auto-selezionato ancora prima di venire a vedere la casa. Ce lo dicono in tanti, grazie per avermi mandato quella piantina grazie per avermi inviato il tour virtuale grazie per aver visto quel magnifico video che hai preparato della sua casa perché questo mi ha trasmesso anche emozione. La gente oggi vuole emozionarsi prima di vedere la tua casa poi certo c'è il lato pratico, ma bisogna utilizzare questo tipo di, come posso dire, mondi quello diciamo analitico e quello emotivo-emozionale. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!